Sono Elia Romanelli, porto al Salina Dogfest il mio film Venezia Altrove o Venezia Elsewhere, un documentario che a partire da una riflessione su Venezia indaga il tema effettivo del documentario che probabilmente è l'immaginario. Un'isola secondo me è probabilmente il classico luogo dal quale scappare, al quale tornare, dal quale scappare, al quale tornare e così via dicendo per parecchio tempo. Questo è in sintesi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS